Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo biografico in cui l'autrice racconta le sue esperienze a Hollywood durante il periodo d'oro del cinema americano e offre uno sguardo unico disincantato sul mondo delle celebrità. La trama del libro, gli adorabili, Miss Fallaci alla conquista dell'America, della scrittrice Oriana Fallaci, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, è la seguente Ho portato a Hollywood una valigia di spaghetti per Sofia Loren, glieli ho portati da Roma, me li aveva dati sua madre e credo che pochi avvenimenti abbiano eccitato in queste ultime settimane il frivolo soborgo de Los Angeles, quanto la notizia che una giornalista italiana aveva portato gli spaghetti a Sofia. Tutto questo accadeva nel giugno del 1957, quando Oriana Fallaci si rivedeva tra Roma, New York e Los Angeles per raccontare la fabbrica dei divi. Con sguardo disincantato e l'inconfondibile stile caustico riverenti della sua penna, Miss Fallaci, come la vostro fava Orson Welles, a differenza di altri suoi colleghi, sa nascondere la giornalista più agguerrita sotto la fingannevole delle maschere femminili. Sono gli anni in cui gli occhi del mondo inseguono i nuovi miti di celluloide, ma solo lei riesce a descrivere la disperata umanità di questi divi, fatti apposta per essere adorati. Da James Dean a Yul Bryner, da Ava Gardner a Ingrid Bergman, Miss Fallaci si aggira per Hollywood con aria sconcertata. Le cose più strane possono avvenire in questa città, scrive. Qui le case sembrano avere pareti di vetro. Non potete fare un gesto o dire una parola senza che gli altri lo sappiano. Vivere a Hollywood è come vivere con un microfono nascosto in ogni stanza e le macchine da presa della TV puntate in direzione della camera da letto. Ma sotto l'aspetto spregiudicato, Hollywood è conformista fino all'eccesso e questi straordinari reportage diventano l'occasione per mascherare le contraddizioni della società americana in bilico tra moralismo ed emancipazione, dove il whisky si beva a casa quando non vede nessuno. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.